Ciao a tutti, sono Fabio, meccanico della Z-Bike, sita in Lugano, Mendrisio, Locarno e Camorino. Siamo qui oggi per presentare questa bellissima bici del brand Cannondale, è la Quick, che è una bici indirizzata ai ciclisti di strada e anche per chi vuole utilizzarla in città. La particolarità di questa bici è una bici motorizzata Bosch, azienda leader nel settore sia dell'automotive ma soprattutto anche nel settore bici. È una bici con un motore performance line che dà al nostro ciclista un aiuto fino a 60 Nm. È una bici a 25 km orari che va bene per essere utilizzata in città e fuori città e non ha bisogno di essere targata. Buongiorno, sono Rubens Bertognati, questa è sicuramente una bellissima bici dalle linee filanti, molto performante per chi vuole avere stile anche quando va in città a fare le commissioni. Inoltre vi ricordo che da noi ZBike, azienda leader nel settore delle e-bike già dal 2008, vi offriamo il servizio officina e la bici potete acquistarla anche comodamente con dei leasing, tutti fatti presso la nostra azienda. Musica Musica Musica